Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess ed eccoci qui su Spore! Come vi avevo già parlato su Mindtest cercherò di fare una serie alternativa a free to play fin tanto con dei problemi diciamo organizzativi come ho spiegato in un video scorso che io vi invito a guardare con attenzione tutto Farò una breve serie su Spore se vi piace vi invito a lasciare tanti pollicioni verdi in su e commentare soprattutto qualsiasi cosa basta che commentate e dite yeah bravo Mazzetess e appunto allora farò una brevissima serie su Spore con le mod, no le mod, i DLC, cute party Puck, una cosa del genere e Galactic Adventures Niente qua ho iniziato una partita tempo fa ma ne facciamo un'altra tipo qua Partiamo dalla fase cellula, questa è fase spazio, fase civiltà, fase tribù, fase creatura, partiamo dalla fase cellula Dieta e erbivora Io ho sempre... le mie creazioni... cosa... no nessun tema... cosa... oh... normale... la chiameremo ehm... tarantella... sì... Ah no non era la tizia, era il pianeta, vabbè... lol Magari voi l'avete già giocato infinite volte, avrete già visto un sacco di serie su questo videogioco ma è un videogioco davvero carino secondo me Che è leggero, è tipo un The Sims diciamo ma un po' diverso, un po' sviluppato in modo differente E tra l'altro il Galactic Adventures aggiunge delle cose davvero interessanti a mio parere Perché si possono fare tutte delle missioni con il capitano e... gg a me piace un sacco questo Non ci ho giocato tantissimo con l'espansione là perché questo gioco non ce l'ho da... non l'ho comprato da tanto Ma... è di nutrirsi, questa è la barra dei progressi Allora iniziamo già a pappare qualcosina Per crescere Ah sì ci si muove anche con il mouse effettivamente No quello là è cattivo, quello è cattivo Quello fa male Dobbiamo cercare anche di trovare dei pezzi Ah ecco, ecco qua Adesso ci darà il pungiglione Allora accumulando quei pezzi diciamo possiamo migliorare il nostro... il nostro essere Quindi al prossimo potremo mettergli gli uncini diciamo per difendersi meglio O per attaccare meglio Io lo farei crescere ancora un attimo in modo da avere un pochettino più di punti DNA e mettere più uncini magari Tipo 20, mi pare che con 20 punti posso prendere due... due pungiglioni 19, ancora uno no me lo ruba lui stupido Kaiser di tizio Vabbè dai chiamiamola ora il partner Adesso fanno le pirouette E puffa appare un uovo Adesso noi scegliamo che cosa aggiungere in più E metteremo un modo per difenderci assolutamente Possiamo anche cambiare un po' l'aspetto della nostra cellulina qua Ma... no, quelle per divorare cose di carne ma io non le voglio quelle Quindi metterò questi E effettivamente con 20 riusciamo a permettercene due Grandioso Ma un occhio possiamo anche venderlo E... cambiamo la colorazione magari così Così? Però tipo così Così Però aspetta facciamolo un po' diverso Tipo... No, non possiamo ancora modificarlo qua forse No infatti Possiamo mettere magari un altro flagello No, costa 15 Ma dopo prenderemo le ciglia Comunque ci danno una potenza più ampia La creatura la chiameremo... Mozzo Fa parte della ciurma E quindi... Fa parte della ciurma E quindi... So ficco So bello So fotomodello Perfetto Assolutamente sì È la nostra creatura Adesso esce dal suo involucro Ed è diversa Adesso possiamo difenderci E attaccare Tipo quello là Che ha il pungiglione Potremmo... Ah no, il jet è quello Potremmo... Vedete che scappa in fretta Però se noi riusciamo a... Colpirlo un po' No, scappa troppo in fretta Fregare quello è un po' un casino Effettivamente Però noi vogliamo Quello Sì Perfetto Abbiamo preso il jet Che così ci permette di muoverci più in fretta Quello assolutamente non ha niente che ci interessa Vediamo se per caso riusciamo a trovare un... Ci sono anche quelli che danno la scossa Ci sono quelli che hanno le ciglia E ci sono quelli velenosi Ste case di particelle planktonose in mezzo ai piedi Che robbio Che robbio Che robbio Lasciami in pace Ah e c'è anche il tubetto che aspira le cose Che fa... Quelli solitamente ce l'avevano Ma quello non ce l'ha Ah ecco le ciglia Però scappa veloce come non so che cosa Ok l'abbiamo preso grazie all'altro tizio Abbiamo anche le ciglia Adesso cosa ci manca Il coso... Veleniforo Che è là Vedete che ci... Tossica sto porca miseria Ah e il... Il coso ce l'ha quello là Ah e quello è pericoloso Ok abbiamo preso la provoscide Scappa scappa che quello è pericoloso Cosa siamo lenti Siamo lenti Siamo lenti Prenditela con un altro Prenditela con un altro Non con noi Vattene Oddio Oddio Ok se n'è andato Tra l'altro recuperiamo anche vita Con queste cose qua Pure volevo trovare quello velenoso Eccolo là Eccolo là Eccolo là Lasciami perdere Chiamiamolo il partner va Ma no è morto Proprio mentre stavamo Si stavamo E era la parte più bella Vabbè ma perché ce l'hanno tutti con noi Perché ce l'hanno tutti con noi Adesso dobbiamo accoppiarci definitivamente Proprio perché Se no siamo poi troppo grandi E abbiamo bisogno di qualcosa per scappare rapidamente Tipo il jet L'altro è più grande L'altro è più grande di lui Mannaggia Come costa troppo il jet E togliamo questo E mettiamo il jet Così Eh per ora si per forza Poi magari riusciremo a mettere anche le ciglia Chissà Chissà Comunque per questo episodio è tutto Noi ci vediamo col prossimo episodio Non so quando Ma state sintonizzati Mettete un mi piace E commentate e iscrivetevi Così potete restare Aggiornatissimi Su tetto Quello che succede Nel mondo E non solo Ciao a tutti